Nel corso degli anni l'Avelino Rugby ha ridisegnato il proprio abito. Durante le 20 stagioni di attività non è mai morta la passione del presidente Roga e dei suoi affiliati, vivendo momenti belli e altri più tristi, ma senza mai smettere di portare avanti il proprio progetto. In questa annata non ci sarà la prima squadra in quanto non si è raggiunto il giusto numero di tesserati con gli elementi migliori che stanno giocando in B con Arichi Salerno e altri in Cico la zona orientale Salerno dell'ex tecnico Maurizio Cascone, così come non ci sarà la partecipazione al campionato Under-16 con i tesserati che andranno a giocare a Torre del Greco. Ma ci saranno gli Open Day, le giornate dedicate ai tanti piccoli atleti che si avvicineranno a questo sport bello e difficile, ma dalle 15.30 a Parco Manganelli ci sarà coach Antonio Mernone che allenerà piccoli e giovani atleti pronti a confrontarsi ed imparare le basi dello sport della pallovale. Un progetto quello giovanile che non è mai tramontato nella testa del presidente Roga del club, così come la voglia di emergere nella città di Avellino e di rappresentare il territorio con costanza.